Episodio 3 del corso di Flutter, oggi creiamo un nuovo progetto di Flutter qua su Android Studio e vediamo come sono strutturate le cartelle al suo interno. Nel prossimo episodio poi vediamo il codice effettivo che ci è stato creato e cominciamo ad analizzare la prima applicazione, quindi prima struttura del progetto e poi applicazione. Quindi New Flutter Project che dovreste avere perché avete installato Flutter, eventualmente riavviate Android Studio, riavviate il PC, fate quello che dovete fare, ma poi non potete non averlo. Quindi New Flutter Project, benissimo, selezionate l'SDK Path, voi probabilmente se avete seguito il mio tutorial avete C slash source slash Flutter o anche C Flutter va bene, in questo caso io ce l'ho qua, quindi va bene per forza. Next, nome del progetto in questo caso per me è Corso Electron e qua lasciate perdere la location, se volete cambiare dove salvo i progetti fate pure, la descrizione al momento non ci interessa, è chiaramente un'applicazione. L'organizzazione, vedete che è un dominio al contrario, tipo facebook.com per intenderci, se non avete un dominio a cui fare riferimento della vostra organizzazione, del vostro sito, pensate a lucarossi.it oppure autostrade italiane.it, quello che volete, a sto giro è convenzione fare me.il vostro nome. Fate così e dovreste essere a posto, questo serve per creare insieme al nome del progetto e quant'altro un nome univoco per la vostra applicazione, che la deve identificare poi sui vari store in modo univoco. Quindi, Android Language abbiamo Kotlin, va bene, iOS Language Swift, perfetto. Le piattaforme, andiamo solo a coprire a sto giro il mobile, qui in Android iOS, via Linux, via Mac, via web e via Windows. Possiamo fare Create e il risultato dovrebbe essere circa il seguente. Allora, andiamo a vedere passo passo tutte le cartelle che abbiamo. Allora, Dart Tool, qua fa riferimento a Dart, perciò non ci interessa e lo lasciamo perdere. Punto idea è la cartella di Android Studio, perciò anche a sto giro non ci interessa a meno che volete configurare qualcosa per il workspace, quindi via, lasciamo perdere. Dopodiché abbiamo Android e questa è la cartella del progetto effettiva lato Android. Se vedete qua abbiamo anche iOS, quindi noi scriviamo il codice qua sotto in lib, vedete? Noi abbiamo qua lib con il main Dart, che è il primo file in assoluto, ma poi abbiamo la cartella dedicata all'applicazione Android effettiva e all'applicazione iOS. Questo perché in certi casi dobbiamo per forza entrare e sistemare alcune cose, magari nel Gradle oppure nel Manifest. Stessa cosa invece per iOS, utilizzeremo il progetto Xcode per andare a fare alcune modifiche, il signing dell'applicazione e quant'altro. Quindi queste due cartelle fanno riferimento all'applicazione, ma nelle due piattaforme che poi andiamo ad utilizzare. Abbiamo build, questa cartella lasciate perdere, è la cartella che viene fatta quando buildate il progetto, prima volta che buildate il progetto parte. Poi abbiamo la cartella di test, dove andate a fare i vostri test, perché abbiamo gitignore, che è un file che dice a git, se non sapete cos'è git, lasciate perdere. Anche se dovrete impararlo perché è importante, perché vedete che stiamo lavorando con git, in questo caso dice a git ignora queste cartelle, questi file, vedete c'è una lista di cartelle e di file. Quindi git andrà ad ignorare questi file. Abbiamo poi metadata, questa è roba di Flutter, che non ci interessa e non tocchiamo. Dopodiché abbiamo analysis option, questo è interessante perché è un file in cui possiamo andare a mettere le regole per il linting di Dart. Quindi se vedete qua in alto che non sapete cos'è un linter, questo file configura l'analizzatore che staticamente analizza il codice Dart per errori, warning e suggerimenti. Quindi qua dentro, quando poi noi scriviamo codice, possiamo ottenere certi errori, certi warnings, certi aiuti e quant'altro. E li possiamo definire qua dentro, chiaramente questa è roba avanzata, volevo solo spiegarvelo, però al momento non ci interessa. Abbiamo il nome del progetto, vedete che io qua l'ho chiamato preparazione perché ho avuto un problema con la creazione del progetto Corso Flutter, mi dava un problema. Quindi poi lo andrò a sistemare, quindi si chiama diverso per me solo perché ho creato un altro progetto. Anche questo file non ci interessa. Abbiamo poi il readme che molto spesso viene utilizzato dai vari github, github e quant'altro come home page di un repository. Ecco qui, quindi per ora non ci interessa. Quelli che ci interessano invece sono pubspec.loc che in realtà poi non possiamo toccare, ma soprattutto pubspec.yml. Allora, definiamola così, su pubspec.yml possiamo andare a definire un po' di cose. Allora, il nome del progetto, la descrizione, publish to non ci interessa perché non vogliamo pubblicarlo su pub.dev, la versione dell'applicazione, l'environment in cui lavoriamo, le varie dependencies. Quindi le varie dependencies che ci interessano, al momento c'è già Cupertino Icons, che quindi sono le icone per iOS. Abbiamo dev dependencies e poi qua in Flutter lavoreremo con queste due parti prevalentemente in questo corso, che sono gli asset. Quindi qua andremo a definire tutti i vari asset, immagini, file e quant'altro, che l'applicazione deve essere in grado di leggere internamente e poi qua possiamo anche andare a definire i font con cui lavoreremo. Quindi in questo file prevalentemente andiamo a specificare pacchetti esterni che vogliamo inserire per lavorare e essere avvantaggiati e poi vari asset e font. Di base, ricordatevelo per ora così, pubspec.yml. Mentre invece la versione lock è l'insieme di tutte le dependencies effettive. Quindi lui prende, ad esempio, l'SDK, Flutter Lens e Cupertino Icons. Tutte queste cose qua, in realtà, voi le vedete come tre pacchetti separati, in realtà hanno un insieme interno di roba. Vedete, ad esempio, Dartlang, insomma, c'è un po' di roba legata a Dart. Ci sono tanti pacchetti, quindi la base di quello che utilizziamo adesso in Flutter porta con sé tutte queste dependencies, tutti questi pacchetti aggiuntivi. Se non capite ancora i concetti di dependencies, pacchetti, eccetera, non preoccupatevi, perché vuol dire che siete proprio proprio all'inizio del vostro percorso di programmazione. Non è ancora il momento. Potete tranquillamente creare delle piccole applicazioncine, anche senza conoscere effettivamente questi concetti. Una volta che avete poi più di mestichezza, andare a coprire queste lacune sarà sicuramente più semplice. Quindi non spaventatevi se non capite i concetti di dependencies e quant'altro. Di base sono i pacchetti che utilizziamo all'interno, quindi importiamo altro codice scritto da altri. Però questi pacchetti generalmente si basano su altri pacchetti. È una catena di pacchetti, mentre qua, ad esempio, abbiamo solo cupertino icons o Flutter. In realtà Flutter porta con sé un po' di pacchetti legati anche solo a Dart. Va bene? Quindi, per farla breve, è questa cosa qui. Andiamo a rivedere velocemente Lib, dove c'è dentro Main Dart, che sarà il file da cui cominceremo nel prossimo episodio. Quindi per ora abbiamo visto quella che è la struttura basica di un progetto. Nel prossimo episodio facciamo partire effettivamente il progetto e analizziamo codice e applicazione. Quindi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao! Ciao!